La Regione e il RFI hanno preso l'impegno a realizzare tutte quelle opere mancanti alla rotonda ipogea di Villa Pavone. Sì, è stato fatto un sopralluogo con i tecnici della ferrovia, il Comune giustamente, con l'assessore di Padova, RFI responsabili e De Annuntis per quanto riguarda la Regione, per vedere tutte quelle anomalie che sono emerse dopo l'apertura del sottopasso, quelle carenze. Come i marciapiedi e i passaggi ciclopedonali? Sì, il ciclopedonale verso Teramo e i marciapiedi nel tratto del cimitero. È stato un bel incontro costruttivo anche da parte del Comune, la Regione e le Ferrovie. C'è questo impegno da parte della Regione e delle Ferrovie di realizzare un nuovo sottopasso ciclopedonale all'altezza della chiesa di Cartecchio. Bisogna adesso vedere tecnicamente se è fattibile e soprattutto il costo, però ci si sta lavorando tutti insieme, quindi va merito anche al Comune di Teramo che sta organizzando tutto, anche grazie al mio impegno nel senso di stimolo adesso da opposizione verso l'amministrazione per cercare di risolvere i problemi, non solo legati al ciclopedonale e ai marciapiedi, ma anche al passaggio dell'autobus che è fondamentale adesso con la nuova apertura di questo sottopasso.